I sindaci di Ferla e Cassaro hanno incontrato il commissario del Libero Consorzio Comunale, Carmela Floreno, e il responsabile della viabilità provinciale della zona nord, il geometra Smiriglio. L'esito dell'incontro è stato positivo, come sostengono gli stessi primi cittadini. Infatti da lunedì saranno avviati i primi interventi lungo i luoghi della frana, interventi di sgombero della carreggiata e di caduta indotta dai massi pericolanti. Il sindaco di Ferla, Michelangelo Gianzi-Racusa, ha tenuto a ringraziare il commissario dell'ex provincia per la disponibilità dimostrata. Non possiamo calare l'attenzione sulla vicenda della viabilità, dice, perché è garanzia del diritto allo studio, alla salute e al lavoro di due comunità. Nello specifico, il Libero Consorzio ha già deliberato due atti amministrativi in cui si riservano oltre 48 mila euro e anche 36 mila euro per gli interventi di ripristino della viabilità lungo la strada provinciale 45. Il problema tiene alla frana che il mese scorso ha provocato non pochi disagi ai residenti delle due comunità montane che praticamente sono scollegate, tranne che non si debba fare un giro tortuoso e molto lungo e continuano a fare sacrifici per far fronte all'impossibilità di transitare per quella strada.